Ultima realizzazione dal gruppo Nexus, il modello è il Centurione, un bellissimo coltello da campo, ideato e realizzato da Mick Molletta che ho avuto il piacere di conoscere questo fine settimana. Il coltello è una nuova versione delle serie precedenti Nexus, l'acciaio utilizzato è un A8 modificato, la manicatura è in miso 1, uno stratificato molto molto resistente, lo spessore della lama è di circa 7 mm, questa serie qui è senza controfilo, ma c'è anche una versione con controfilo, nel fondo ha un anello per attaccargli un cordino, da questo stato della lama c'è il marchio Nexus. Il coltello è stato realizzato in 80 esemplari circa, con controfilo e senza controfilo. Lo abbiamo provato questo fine settimana, si è dimostrato veramente eccellente, di una resistenza formidabile, potete anche vedere negli altri miei video quello che Morgan Lea, un altro utente del forum, ha fatto con questo coltello. Inoltre il tagliente è molto molto duro, l'impugnatore permette di l'utilizzo sia avanzato che da chopping e la guardia evita lo scivolamento in avanti delle dita. Il coltello è davvero bello, molto ben fatto e di notevoli dimensioni.